Antoine Rose è un artista di 41 anni, un'età relativamente giovane, visti gli ottimi risultati da lui raggiunti durante la sua breve carriera. L'artista inizia a lavorare all'età di 28 anni e i lavori più celebri sono questi, ovviamente quelli delle spiagge. Vediamo diversi formati che non sono casuali ma sono finalizzati alla miglior resa dell'immagine stessa. Le persone e i turisti di fronte a queste immagini hanno una reazione di stupore, data la grande quantità di dettagli che è possibile rintracciare avvicinandosi all'immagine stessa. Non si tratta di un lavoro digitale, le immagini vengono scattate da un elicottero in cui l'artista è legato e scatta la propria immagine sporgendosi in verticale. Possiamo notare inoltre una modificazione esclusivamente sul colore che risulta più vivo, più brillante grazie all'utilizzo del pexiglass che è posto sopra l'immagine stessa.